Il radito di cittadinanza manca di fattibilità fino a che non vi saranno i presupposti economici. La proposta in questione si sviluppa in 5 provvedimenti da sottoporre al legislatore. 1. Tetto alle pensioni di 1.000 euro, elevabile a massimo 1.500 solo se vi siano particolari necessità legate a situazioni cliniche o persone con difficoltà a carico. 2. Fiscalizzazione della Costituzione con conseguente immersione del sommerso e imposta IVA del 50%, e obbligo alle meretrici di sottoporsi ad analisi mediche settimanalmente in cliniche pubbliche a proprie spese, e obbligo dei versamenti contributivi alla Cassa Previdenziale. In Italia, viste le ragioni culturali e sociali, con questo provvedimento, il bilancio dello Stato schizzerà subito in attivo con progressiva forte riduzione del debito pubblico. 3. Riaffidamento del potere temporale alla Chiesa, solo per quanto riguarda l'inquisizione dei politici indagati o sospettati, che verranno sottoposti ai metodi classici dell'inquisizione con il fine di recuperare denaro sottratto allo Stato e al fisco. La Chiesa sarà anche autorizzata ad interrogare e porre ad arresto nelle segrete, i vertici delle banche e i membri delle fondazioni politicizzate nelle amministrazioni, con il fine di fare chiarezza sul ruolo da loro svolto e sui meccanismi che hanno portato alla sottrazione di denaro pubblico. 4. Carcere duro, 41 bis, e sequestro di tutti i beni, agli imprenditori con ingenti patrimoni finanziari, beccati a rubare al fisco o a occultare capitali all'estero. Il 41 bis verrà commutato in carcerazione ordinaria solo quando sarà certo l'avvenuto recupero di tutti i patrimoni occultati all'estero. 5. Dimezzamento del numero di parlamentari, senatori, consiglieri regionali, dirigenti nella pubblica amministrazione. Accordamento dei comuni con esiguo numero di abitanti, cancellazione di enti inutili, come ad esempio le comunità montane. I 5 provvedimenti di cui si compone questa proposta non appena verranno attuati, renderanno fattibile la costituzione del reddito di cittadinanza in favore dei disagiati e di chi purtroppo è stato messo al margine dalla società. Il reddito di cittadinanza permetterà a tutti di vivere in maniera dignitosa. Senza misure attuative il reddito di cittadinanza non è fattibile.